Ultime ore prima della partenza per la Virtus Franca Villa, che domenica sarà ospite della Juve Stabia per l'ultimo atto di regular season. I padroni di casa dovranno necessariamente vincere e dallo stesso tempo sperare in una sconfitta della Turris se vorranno proseguire la propria stagione. I biancazzurri invece, già certi del sesto posto, vorranno proteggere il quinto dalle avanzi del Monopoli, che avrà un impegno quantomeno più abbordabile sulla carta. Il gabbiano dovrà infatti vedersela con una fidelissandria già certa di dover disputare i play-out. In vista della sfida ai campani, mister Roberto Taurino potrebbe pensare bene di tenere in panchina Riccardo Idda in quanto diffidato. L'ex cosenza è un elemento imprescindibile della difesa biancazzurra ed il tecnico ha buone ragioni per tutelarlo in vista dei play-off. Al suo posto, pronto a scendere in campo dal primo minuto del vino, che dopo aver passato in panchina gran parte della prima metà stagionale, sta riscontrando notevole spazio in questo 2022. Quando chiamato in causa, il 24enne baresi ha sempre saputo rispondere presente, e se tanto ci dà tanto, lo farà anche a Castellammare. Sulla fascia è tempo di rientri. Contro le Vespe torneranno fra i convocati sia Pierno che Enyan, quest'ultimo assente da oltre quattro mesi causa infortunio. La prima partita saltata dall'esterno italo-ganese a causa di questo guaio fisico fu proprio quella con la Juve Stabia dello scorso 19 dicembre. Almenti, il classe 2001 avrà tutte le intenzioni di chiudere un cerchio.